Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il Regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Dice dunque, un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d'oro, dicendo «Fatele fruttare fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo diavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire «Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi». Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quando ciascuno avesse guadagnato. si presentò il primo e disse «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate dieci». Gli disse «Bene, servo buono, poiché tu sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città». Poi si presentò il secondo e disse «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate cinque». Anche questo disse «Tu puoi essere a capo di cinque città». Viene poi anche un altro e disse «Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho ricevuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te che sei un uomo severo prendi quello che non hai messo e in deposito emiti quello che non hai seminato». Gli rispose «Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo che prendo quello che non ho messo in deposito e emito quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca. Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi». Disse poi ai presenti «Toglieteli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha dieci». Gli rispossero «Signore, ne ha già dieci». Io vi dico «A chi ha, sarà dato». Invece a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi loro re «Conduceteli qui e uccideteli davanti a me». Dette queste cose Gesù camminava davanti a loro sarendo verso Gerusalemme. parola del Signore «L'odio a Dio, devianto la nostra delicta». Siano rodati Gesù e Maria sempre siano rodati. In questa settimana ci prepariamo per la conclusione dell'anno liturgia la grande solennità di Cristo Re. I tesi sono quasi tutte escatologiche, parla sempre del giudizio di Dio dell'ultimo giorno quando il Signore ritornerà. E nella liturgia di oggi ci parla soprattutto nella prima lettura del libro dei Maccabè con il suo bellissimo testo di questa donna con i sette figli che per la fedeltà alla legge di Dio alla Torah, alla legge di Mosè e ai comandamenti offre i suoi figli a Dio in sacrificio. Rinuncia all'amore dei figli, rinuncia alla vita dei figli per osservare la legge di Dio, per osservare i comandamenti di Dio e di lui stesso che si offre come martiri, come Santa Cecilia che si è offerta come martire tutta consacrata di Dio nel voto della verginità e per questo viene uccisa grazie al dono della fortezza che è una virtù che viene perfezionata dal dono allo Spirito Santo della fortezza che ci dà quella forza per dire no al peccato dire no alla mentalità di questo mondo così lontano così corrotto e anche nel Vangelo di oggi Gesù ci presenta questo bellissimo episodio parla di se stesso lui che è re che affida ai suoi servi delle mine che cosa è la mina non è una moneta di conio ma è un'unità di conto corrispondeva ogni mina circa 35 grammi d'oro e affida a questi servi l'oro la sua proprietà per andare a ricevere l'incoronazione per diventare re così facevano i romani alcuni addirittura andavano direttamente all'imperatore per ricevere il titolo di re al suo ritorno chiede ai servi cosa ne avete fatto di quello che vi ho dato fa riferimento a noi signori io vi ho dato tanti carismi tanti doni delle doti particolari voi che cosa ne avete fatto il dono più grande quello della vita abbiamo visto lo stesso parabola quella dei dieci italiani domenica scorsa che ne avete fatto dei doni ricevuti come li avete impiegati allora il Signore ricompensa quei servi fedeli che non sono stati prigri svogliati oppure egoisti ma si sono stati da fare hanno lavorato per il Dio hanno usato tutte le proprie capacità le sue proprie capacità a livello la volontà e tutte le loro capacità che il Signore soprattutto quello della vita il dono di essere cristiani abbiamo ricevuto tanti sacramenti e tante qualità li hanno usati per servire Dio per mettere tutto al servizio di Dio altri invece pigri fannulloni non producono frutti di virtù nella loro vita hanno dei doni dono della vita tante qualità ma lo usano per il male non solo non servono Dio ma addirittura servono Satana per fare del male e diffondere l'errore la confusione soprattutto quelli che sono consacrati a Dio che hanno avuto tanti doni i sacerdoti i vescovi i consacrati che da Dio abbiamo avuto tanti doni a quello della verità di essere al servizio di Dio e poi usiamo male questi doni e il giudizio di Dio sarà molto più severo su di noi e per tutto ogni cristiano che abbiamo avuto tanti tante qualità tanti doni come li stiamo usando ecco il giudizio di Dio è molto severo e lo renderemo conto di quando Gesù tornerà ecco il re tornerà dalla sua investitura i suoi nemici coloro che non lo hanno accettato come re e tutta quella gente che non riconosce Gesù come re vedremo domenica prossima proprio nella sonorità di Cristo re nella bellissima documenta del Papa dell'enciclica e qua prima Gesù che è colui che è il primato su tutte le cose non viene accettato dagli uomini cosa sarà di l'ho la morte eterna dice Gesù nel Vangelo la morte eterna l'inferno e a me disse la Madonna Fatima molte anime vanno all'inferno 13 luglio 1917 e Papa San Giovanni Polo II era molto legato a Fatima in modo particolare la sua Lucia molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro e peccate della carne sono i peccati che conducono più anni all'inferno verranno mode che offenderanno molto il nostro Signore Gesù Cristo ecco la modità la modità di oggi tanta immoralità pornografia impurità adulterio peccati impure atti di omosessualità invidia rubare rancore vendette risentimenti non so se erano più i comandamenti di Dio cosa sarà di loro Gesù dirà non vi conosco allora chiediamo al Signore questo dono della fortezza Signore rientimi di questo dono per dire no al peccato di essere fedele di usare bene tutte quelle qualità a quei doni che Dio mi ha dato e le doti che mi ha dato perché io possa così servire Dio e non offenderlo e non fare guerra o diffondere confusione e errore come fanno alcuni con dottrine strane ambigue che sono cause di scandali di peccato che non conducono alla santità ma lontano dal divino volere preghiamo per loro perché un giorno saranno giudicati severamente davanti a Dio noi affidiamoci alla Vergine Santa è la regina dei martiri quella che si è offerta come vittima ai piedi della croce la madre corredentrice come la chiami Papa San Giovanni Paolo II lo stesso Padre Pio nel suo epistolare Vergine Santa tu impietrida del dolore ecco sei lì che offre il tuo dolore al padre aiutaci a sopportare ogni angheria ogni cattiveria da parte di questo mondo ormai miscredente atio ma triste disperato già morti interiormente senza sine senza senso una vita che una società che si sta autodistruggendo perché ha escluso Dio dalla loro vita si hanno rodati Gesù e Maria Gesù e Maria Gesù e Maria Gesù e Maria